ragazzi mi dici se si iscrivono al mio canale vai iscrivete al canale di xmate 88 no 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 tu e insomma vuoi iscrivere no no se tu ti puoi iscrivervi al suo canale ma chi il fulmine scontro ma si si sa che mi scrive ha detto che si iscrive aveva se trovo il mio telefono che l'ho tirato in cui a mondi perché sono real ma c'è un tizio signor matti vogliamo avviare l'attività abbiamo uno spettatore signori abbiamo uno spettatore matti toccano rispettato ma forse non mi vuole neanche fare niente matti a quanti spettatori 6 è boh mi dice uno ma secondo me non siamo in un po c'è impossibile che si amministra 2 perché la storia l'alex ciao da sole l'alex lo fa fatica di così 54 attività vi attivo l'attività se io ho fatto iscrivervi al tuo canale tante persone se no io si so che siete allora raga matti deve che attività dove mettere chiedi che attività lo chiedo anche a me quale attività volete vedere ok raga ditemi che che attività dove volete vedere cosa dobbiamo fare esatto chiudi che che vedete un po di musica ma non è stata io figlio ma non cantare testa di di citriolo dire c'è un attività ragazzi adesso qualcuno a me aveva detto qualcuno devo te morì che dice già rispettato due euro aspetta quello è messo bene non so perché dice 0 spettatore come è un bacio è stato comunque a me aveva detto qualcuno parkour 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 a te che dicono a me ancora niente però parkour non ce l'ho quindi mi dispiace facciamo una cosa ragazzi io non ho detto match ok le gare le gare ce le ho le gare ce le ho sono una caramolata posso creare se vuoi con quelle dell'elenco che è un elenco di gare ma così facciamo insieme allora elenchi partite non faccio il tuo che crea creando elenco partite allora giungi gara una gara malata ho messo tante più gare malata mi sento un sacco di gara wait gara maleta malata ma la maggiori ma letten aggiungi lato attività preferite allora questa è una gara stante o vanno bestemmiare fanno bestemmiare poi ho chiesto quando fai la line chiamati ma ti fanno bestemmiare queste gare e vabbè non fa niente abbiamo a bando a casa su due ruote bando quanto io ti chiamo lega io verrei anche una tività ha visto un poco a tutti che sto in live way bella gente ciao a tutti guarda ci vuoi sicuro che forse metodo dell'attività cazzo ho messo anche un last in standing ok cosa è sta roba ho messo tutto quanto ok bene allora cazzo della macchina io avrei finito l'ho creato avviene a vedere allora allora cosa ma che cosa lo fare io che non so allora hanno detto che vogliono fare delle attività vogliono vedere la città giustamente l'enco di roba a casa va assomigliano roba a casa mi metto attività cazzo soltanto tutto qua fa me tempo fa dal mio canale passata al canale di destroyer alex ragazzi che è una persona venite a vederla ma sì ma sono anche la mia letto c'è no ma quello che sto scrivendo su un gruppo ma non ho capito ma non ho capito chi sono no che cazzo cazzo niente su youtube fatto ok ti voglio scherzo al tuo amico e io ti coche sì a pochi chi cos mi ha detto che ha detto che ti amo grazie ok che ho troppo bene zio sei un grande ti giuro che sei un grande sei un grande ciao a tutti quanti mi iscrivo ai canali metti mi piace commento faccio cose belle o cacchio allora facciamo due live un po ci sono sui gta poi ti giuro che dopo devo giocare sul rambo 66 anche se non so assolutamente come si gioca e gioca lui ma no gioca anch'io però giochiamo insieme ti invito all'elenco eh ti invita mi vuoi ok dico anch'io che sono in live allora conferma i miei amici ragazzi no alex non penso che puoi venire live ma sicuro che mi fanno venire arrivo scusa arrivo papà domande a schemi che non lo trovo ma per favore aspa arriva un anno il tuo amico chi costerò cico chi con le cari come questo nome bello che si è scritto qualche coppia ragazzi chi con ieri 05 sappiamo ma siamo io e te solo su che piattaforma si ed è su un quarto si vede domenica potuto ciao domenico o che la trova mai verrà comunque quindi non siamo noi non è più ma di casa meno noi due questo era un fatto a ieri in due persone però mi dice che devo parlare forse in sei persone boh vabbè facciamo qualcosa non lo so vai dimostra che mi dite ciao 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 allora esci 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 ragazzi in questo live un pochino disagio atta giuati fa giuata perché dovevo uscire scusa esci aspettate che noi ci organizziamo e facciamo anche il gara qualcosa che ecco qua allora vola via normalmente se nemmo per un bordello attività abbia condividendo a tutti quanti la live preferite ma che secondo ma con whatsapp con whatsapp c'è i gruppi belli con no what up ok oggi è di fare come prima gara una bestemmiosa per cui direi di fare la cazzo non sarà tanto bestemmiosa e mandiamo vasto allo santo si allo devasteremo dopo lo facciamo dopo dai devastiamo da prima legale perché se no non vi diamo i biscotti che si facciamo prima la gara qualche gara dai niente biscotti niente biscotti sono comunque dopo di manca qualche mio amico anche un arriva un altro mio amico dopo ti va bene che lui è 220 iscritti mi ha scritto prima delle 6 entra e continuiamo legare poi ho scritto che si pensano sto facendo grammatica grande lui che studia sarà un grande bimbi minchi attacca ma perché c'è e c'era gli acchetti ma che abbombazzo ma cosa scrive così vivendo le foto del libri grammatica faccio dire ma è non ce l'ho adesso non lo trovo l'ho perso ma ti evitalo ma signor matteo entri vabbè rivelamo i nostri nomi rivelamo i nostri nomi ma secondo me è intuitivo che mi chiamavo francesco sai ma ma molto intuitivo che mi francesco vabbè andiamo vai tara tantam with the moment si è 4 4 shadow e io alex aspetta e poi non ho capito però non ho capito veramente e come fare un bambino ciao crosti ciao crosti game se vuoi iscriviti al canale ma cosa saluta infatti sono quello nel gruppo di whatsapp si 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 la stiamo facendo vogliamo giocare sono pronto sono tutto pronto ciao Giovanni ma quando siamo non siamo in tre è impossibile ma perché ti chiamano bello decasto bello decasto ah ho dimaiato ma come si no no tutto fatto così a casa bello bello decasto ok scusate ragazzi c'è la casino in camera ok li prendiamo scusate sì ho capito che sei grossi ciao bellin che se non male no 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 ma perché mi devo non dire oddio e non posso accettare a tutti mi dispiace no mi sto distraendo dei commenti sale buona fortuna che usi per la live come programma allora non serve un programma per esempio tu devi collegare l'account della playstation 4 con quello di youtube poi una volta collegato in pratica una volta collegato ti devi mettere devi trasmettere cioè apri un gioco per esempio gta 5 trasmetti vai su option tipo è scritto trasmetti la live la trasmette youtube mette il titolo alla qualità e poi parte la live e sei live non ci non serve un programma anzi è abbastanza semplice perché mi non ci vedo nel dirà ooooh ma che sta a fare dico ok vai ok grazie io non lo so perché chi è fermato non lo sento neanche più ok no sto giocando da solo in pratica perché non so che cosa è successo al mio amico oddio ma che c***o ecco come esplode perfetto sbagliato sorry sorry ok tuo gioco preferito allora fino a tipo tre anni fa era GTA anzi due anni fa adesso Minecraft cioè poi altri giochi mi piace però che non ci gioco poco oppure non ho giocato da qualche mio amico mi piace ovviamente Call of Duty a giocare aia che male quanti gii devi fare non lo so sinceramente perché ha messo tutto il mio amico e non so cosa sto facendo perché non è fermo anzi scusate se sto giocando tipo un po' a caso però sto leggendo dei commenti grande anche tu giochi a Minecraft si si gioco a Minecraft ovvio mannaggia mannaggia si si eh cioè anche dal computer gioco io non però se volete dopo faccio la live di Minecraft sul console dalla PlayStation 4 voglio ditemi voi aia ma perché ce l'hanno con me i pali ma ci sono stavo facendo delle cose importanti scusate ok è ritorno per il mio amico è ritorno per il mio amico eh sono scemo io ragazzi è un attivo perché io lo faccio per voi ragazzi mi ha detto lo sto facendo per voi eh l'ho fatto per me sì ma tu stai fermo tutto questo tempo eh ma tu eri fermo tutto questo tempo o l'hai fatto la gara no l'ho fatto ho cercato a me ma dopo poco la sfondi con la piatta fu eh perchè uno è caldo stavo cadendo male tu qua te lo stai quanti cino ho messo scusa aiuto eh vabbè a qualche altro messaggio arrivano messaggi a casa sono morto come i cani sono morto o male come i toni iriomari poi ancora live di minecraft e griffo le strutture oh c'è l'avevo con le strutture eh vabbè come vediamo dai regà se griffa il povero cristiano deve andare più sopra lo so guido di un gorilla a casa ah era il mio adesso cerco di concentrare il più possibile ragazzi non ci posso credere legge il mio cugino cerco di concentrarmi un po' no davvero ho fatto cosa ok vai cerco di concentrarmi ci provo almeno c'è Alex che evitava un po' ok da vocevo i griff anzi oggi griffiamo tutte le strutture se arriviamo a tante iscritti se arriviamo a tante iscritti a cento a cento e a cento in tutta la live non ce la faccio tanto siamo a 76 mannaggia se arriviamo a tante iscritti in questa live mannaggia si sta strimando anche lui bimbi faccio un minecraft faccio minecraft e griffiamo tutte le strutture strano ma palma non c'era di quanto l'ho lisciato quel punto in cielo ma perché sono distratto e poi ovviamente io non ho la presto c'è un 4 quindi non so che vai bene e se vede lui è nato infatti ragazzi cosa ho premuto i tasti ha premuto un tasto signor martin ma dai ma è possibile il punto dove ci sono le tizio con le banane guarda mi dicono il punto coltizio con le banane è possibile non ci sono ancora allora non mi piace non so quanti spettatori quanti spettatori non lo so perché si bug mi dice uno spettatore ma non siamo nulli e beh non puoi essermi sicuro che adesso siamo in uno iscritto hai messo like e grande mi piace il tuo video grazie grazie mille e a me invece me lo hai messo anche a me me lo hai messo anche a me mi vedo un altro è un video che ti consiglio su primo no no lo ho fatto ragazzi comunque io sono stati venuti dove trovo la leggenda ma andatela a vedere infatti i video che ho fatto nel baule omaggio e trovo con le stime vado a perdita che mi chiede di entrare nel party ma non possiamo ok ho vinto mi dispiace guarda è meglio se no non lo prendiamo maio ragazzi comunque voi che magari inseguire io faccio mi sento mi sento mi sento ho visto dicevo ragazzi dopo facciamo che cosa ho detto no ho detto se volete seguirmi io faccio video di compilation di rocket league video di rainbow eeeh 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 ragazzi buongiorno ragazzi buongiorgio io gioco da un anno a clash e manca una leggenda e manca io eh ma anche io eh io gioco da due anni quasi ho trovato solamente il tronco quella che per che io cioè io fino a un mese fa non avevo trovato niente io ho mai trovato le leggendare anche io non ho mai trovato ah raga io ho trovato solamente il tronco che è la carta che più odio tra le leggendare pensate un po' eeeh eeeh io ho trovato da rettino che uscite 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 come ragazzi se volete fatemi per le domande a 3 3 3 4 3 eeeh allora se ti fate le domande dovete scrivere allo no no niente se volete fare una domanda 80 47 quanto è assomatti no hashtag oppure hashtag askkikoz alla matteo eeeh dia come si chiama eeeh eeeh daniele che io ho suggerito un giocatore da invitare al party di lui lo sa cosa vuol dire eeeh dia a daniele che io ho suggerito una persona che ho suggerito delle persone eeeh di farle invitare chi vuote per la live di minecraft chi vuote per la live di gta esatto allora dovete allora chi vuole fare scrivete gta e minecraft scrivete gta 5 e minecraft chi vuole fare gta e minecraft vuole fare minecraft e non vi confondete che volete fare aschi e matti youtuber preferito youtuber preferito mhm sinceramente non ne ho chiedi di fare anche a me c'è sì ne ho una in particolare di minecraft però diciamo che sicuro tutti mi piace quasi tutto però youtuber preferito eeeh è difficile comunque due youtube non ce l'ho fatta dire di mangiare eeeh ragazzi pure voi che mi sentite fate ask kikots ask kikots ask kikots io 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 livello 1 Si è normale trovare un agendario grande dall'uno Daniele lo sa cosa vuol dire fare invitare al parte verso suggerite fai inviare un succedito Ragazzi io voglio l'asta a chi cos'è fatemi le domande il cazzo che volete Parate chi gamer che giochi hai allora intanto comunque se vuoi iscriviti ciao E' di mio cugino e quindi sono la mia cugina adesso si facendo la live Sulla versione 4 a maigratte di tia 5 Il mod si sentono se metti Live di francese e ieri ma partì con ora carano operati no ragazzo dal quel parto perché se non si siano un casino non capisco niente e mi faccio un troppo gente regale o no sono troppo agente se non d'ascola party e la montagna e chiunque gioca ma io sono zitto cosa stai facendo fatela voi due alex e quell'altro fate voi la live lo faccio con lanci del mattico ma fatta voi siamo troppi ma cosa si dice niente bravo vi aiuto nelle gare ma cosa ci viene che ci sarà il diputti sono un po and cazzo legato però cioè non ho parlato fino ad un carattolo e comunque si certe condividete di fare di dire che sto facendo la live su una rata shadow se vuoi faccio anch'io la live bassa che mi dici che mi si fa così no ma che non fare non la facciamo da che un bordello scoperte che un bordello parla in due ore perché non ti capisce più il mondo perché lo soggetti ha in vita il video di cta intanto e condividete ai vostri amici da live oh benno e alex condividete ai vostri amici da live per esempio non so si un attimo tipo sono in live siamo in live siamo in live torno di un mare dita il nome del canale per me sono che cazzo video capiscono ah siamo in da 24 minuti ah eh cazzo video capiscono lì 90 per 100 capisciolo io non mi ricordo se è picciolPO io vivo io me lo vede condividetela live guardi mitola si vuoi seguire si la data a ieri continuiamo no aspetta aspetta è finito che l'elenco invita c'è l'elenco si fa un modifico così facciamo solo quelle di ieri no no paga l'affitto paga affitto io non pago affitto io non non pago affitto non mi odiare per questo no leva 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 l'inche in calzone che sei sei un tondo cazzone ma io sono ma io sono no 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 non ci voglio giocare modifica come io ho detto parkour che sono una cosa spettacolare passi e in percorso vabbè no no magari dopo la città sono un po' e aspetta che ci penso eh comunque dite i vostri amici magari di fare tipo di fare tipo scrivere vedete la base con cosa no no commenta tipo ask chi cosa scrivete una domanda da fare meno qualunque no 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 questo è tutto un bug direi scrivere magari ask chi cosa scrivete la m tipo ok ho capito come si fa mi elenchi partita stanta 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 abbiamo uno spettatore da mille bonzee ciao 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 ok ho capito come si fa mi elenchi partita stanta 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 almeno di un gilio armi g c 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 d c c c c c c c anna c per esempio c'è un po' bianca attualmente armonia cittadini abbiamo pagare l'affitto non poco sono fatto e non è una volta un po' il lente partita è invitata a mandare che non è verificata che si è attacca a scatchicata di farmi la domanda per il potere ma lo sai dove la faccio se tengo l'account collegato, non mi ricordo proprio youtube una cosa tra il piccolo no a me a massimo mail e password poi faccio la bella tendi almeno 10 persone vengono 200 iscritti vabbè intanto io cazzeggio in oh potete entrare ah è seguito l'accesso ci hai invitato all'elenco ah hai invitato all'elenco allora ragazzi che intanto cazzeggiamo in lato meccanico ma invita eh se hai voglia di invitarci quelli che bravo bravo la password è mega prosciutto la diciamo a 50mila like esatto a 50mila like inizia inizia ma io sono anche figo che tengo la cosa che mi devono chiamare per entrare l'account voi dovete scrivere una cosa io avrei dire un codice segreto in bdb a vera raga allora fa appena lo dice ecco entra da il mod del mod come cazzo si chiama il clavio la roba lì di dragon kill il torneo come si chiama non so ne ho trovato quindi non ti conviene c'è ormai anche a me anche non l'ho trovato se arriviamo se arriviamo il primo che il primo che riesce a scoprire la password segreta del mod del mod di attraverso il mint attack riceve un biscotto come la fossa ma io c'ero la ciotola youtube la faccia anche la ciotola youtube ora vado a fare la pisciata tattica la pisciata tattica a parte fa passare mi porto il controllo non lo faccio per voi ma è uno che non conosce a mettere le pisciate vai pisciata super ega finita male nel titolo e spera di stessi questi pezzi di sto facendo la live gta è proprio finito male è stato un tizio con noi voglio dire picchiato eh caccia ho picchiato ma è iniziata già eh minchia dagli anni è sotto mattarella no no che ha quel mondo che l'ha messa a gta è per la prima così la gara la mia non c'è fatta impossibile con il terzetto madre è stato è stato il tonno a dirci che possiamo fare le gare malate ok è già sposo avete avete condiviso live Alex ma ma si ma 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 ah si ieri l'ho vista mentre mangiavo ma non va no vai il ritardo ma inizio ma devi aspettare che ti dice armi abilitate devi aspettare che ti dice armi abilitate si mettono l'ultimo ah hai condiviso live no hai condiviso live oh dai quello si è fermato in attivo aspettatemi eh tu hai dato condividi live intanto condivisa live rega condividi la live ma il mod il tuo aspetto palma certo guarda che bastardo ora davanti davanti bastardo schifo di me eccomi qua con il quanto è stato matarella chi l'ha riusciato un chicco sotto uno sei avete condividi ci sta live di merda regalo dai non è vero perché bene condividi due è stato sciato kiko io non posso dire che volevo avviare la mia ma non me la fa avviare ciao non è passata se ne siete ai vostri amici che di vostri amici che stanno giocando almeno raga sono un vero no 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 amici non voleva la lunga che mi cambia live il titolo della live gioco non forerà l'onno finito male è stato usciuto tutto basta stappi tutto guidato me di un anno in mannina tattica sembra l'argomento più secondo vabbè c'è qualche messo proprio a cazzo vuota qua come è florerato con la bomba io quando non avevo ancora fatto legale stante guarda curioso di fare l'interesse santa così aiuto a piedi perché la prima volta che ci ho trovato mi sono schiava ma quanto sta andando male a me la gara ragazzi io vado a piedi va ma prima che mi ti basa come ieri a me non mi ha capito ma se cico ma non ma sai quanto si godo si succede ok è quel è qualsiasi abbandonato che vinca il più scarso pico sgratti daniele daniele se mi stai ascoltando condividi alla live con delle amici di classe torno e appunto no ho finito ma vai dice a chi piace il città si può guardare no 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 palma 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 o il palma no 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 ma li ho capito in macro la gara ma una gara so mi esplosio è bella ah no ma ieri mi c'è abbagato no non mi c'è abbagato a me si, si, vai ho tempo, ho tempo ma vai 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 si sono andato sucate eeeeeeeeeee eeeeeeeeee sucatee io sono arrivato priiiiimo Io di sicuro al secondo non ci arrivo Ma posso ancora Certo, non arriverò al secondo Ma posso ancora terminare La posso terminare La posso terminare Posso farcela Che falle Sono giusto Ma poi è arrivato Oh Matteo Fuca Fuca Non ci arriverai mai Dai ho vinto io Praticamente ho vinto io Ho vinto io No Stavo uscendo dalla porta Quattro mila dollari No ma aspetta Ma se vado su Instagram A scrivere su YouTube Wait a moment Io mi vero il primo post Luca ma aspetta che faccio un post Palle veramente Ma senti qua che non mi ricordo come si fanno i post Come si possa andare con male che non Quattro mila dollari E' che non me la fa avviare E' tutto ad un tratto Il silenzio assoluto Che non me la fa avviare E' questa live di merda Vuoi che state guardando Da chi fa Tutti schifo Perché? Mi saluto a Daniele Daniele è il primo Daniele ha detto che fai schifo Eeeh 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 Torno E mando un bacio Alla zia Che di tifurata Le loro sovelline No quello io non ti ho capo bastona Eeeh 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 Mi mando un bacio Alla zia che è sulla tua Leva che si fa Leva che si fa Ciao zia che mi segue Quella è la mia più grande fan Primo giorno Primo giorno Grazie a lei ha iniziato Ma ha comprato persino Le caramelle da mangiarmi Da Eeeh 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 Prima Inizio Della gara Ma che è glucosa? No Amico Quella gara Che non si doveva fare Che non si doveva A 100 spettatori Esco la faccia Sì Ragazzi 100 spettatori 100 spettatori Esco la faccia 100 spettatori Esco la faccia Ragazzi Ragazzi Zitti che io tra 100 spettatori C'è tutto per vedere la faccia Di Ticot Ma anche di Alec Di tutti Senza Anche io Senza del farine Basta che andate in bagno Vi abbassate verso il cesto Ciccate la testa Nel bagno Dove lì che è la gara? C'è vedo lo responato E poi il riflesso dell'acqua Ma soprattutto il riflesso dell'acqua Ragazzi Alla vostra promessa 100 spettatori E si esce la faccia E si esce la Ma voi è già detto Basta andare in bagno Non mi fissi 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 Ashtag Basta E ragazzi Non mi fissi Non mi fissi Non mi fissi Ma il faggio Su sa gara E' 40 volte meglio Il faggio Su questa gara E' 40 volte meglio Che va caduta? Cos'è sto fai Grosso No No Non mi fissi Nessuno a casa No Già Avevo piato Le mazzate Ma serio Ma però No Dica 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 Faccio Questo perdo la reputazione 200 miliardi di iscritti che c'ho torno a bene torni al 222 sono tutto tipo dal primo all'ultimo anche sia carolina e il gioco potete che noi facciamo dopo che lo facciamo potate un gioco tra un gioco tra rainbow six oppure votate tra mai mai grande atto lo rimbossi finisce il gioco ce l'ha alex ce l'ha alex ce l'ha ce l'ha ce l'ha vabbè quindi cosa tra roma in casa e un altro gioco ma perché la fa una sosta rega non c'è no ma non mi piace scelta ticco cc a me ne voglio 100.000 ne vai che c'è per me no un'unico di una citazione ma no ma non c'è la foto ok ma ci credo stanno ora ma quando ne finiscono la gara della mente ci siamo quando veramente ci arriviamo a 100.000 spesa 100.000 mi piace c'è con la inoltre la ma resta lì. però non è che c'è cittadino a fare il test voglio una domanda farmi una domanda a fare una domanda mi faccia ho fatto io sentite questa canzone con una buca 2 euro buca buca 2 euro non c'è l'ora non c'è l'ora l'ho fatto non potremmo fare cugino sapete che mi sa che prima che di sa chiede che un prima di farla devo anche dire che prima di un video devo dire che il mativo il giorno prima pure tra poco ci sarà la e non lo so perché la parola per il popolo direte la gente dentro del tuo canale che non è fresca 24 ore tu devi fare la città la città la città la città poi sono troppo da cringe poi sono troppo da cringe ma il qui possiamo notare oddio ragazzi sono arrabbiati l'ho fatta ce l'hai fatta aspetta ciò molto devi aspettare vai da tuo capello spingendo no mi ha chiesto se vuole vedere mentre il gioco vabbè niente vai guardi da live vai anche vedrò la live vai andrea gioca non dire il nuovo brutto vola non si chiama andrea infatti si chiama antonello oh shadow se mi spingi giuro che entro ma io ho finito quel tavola parte sapete tipo a striscia la notizia il mondo che fanno ma cosa è quello gioco di me tondo rio mare si vai 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 è pronto che si è diventato rio mare no ragazzi state morendo vi stanno massacrando quando passate ma c'è gesù è stato salvi gloria rivela ahahah ma tu almeno ci stai aspettando ma col cazzo proprio ma con il cazzo loro che mi aspetto stronzi come siete like la live eeeh non lo so dai hai il telefono scrouse ti impone della connessione dei poveri appunto c'è il telefono scrouse allora c'è il telefono scrouse no ma questo tocca l'altro pure dai ragazzi facciamo così a 100 miliardi di like oggi chiedo altri 100 miliardi di like a caso non vanno aspettati voglio furios con l'emoto grosso no ragazzi ma quando non mi spiega ho l'anti sprang tarocca raga ma è incasinata in un certo punto c'è qua dei certi cose grosse se non riusciamo a fare il primo pezzo io ce l'ho fatta ma ragazzi siamo da 46 minuti e pensate che da quando sto con il pc che c'è costo più di te ah sai io posso 40 miliardi di euro quando c'è eh quattro anzi io posso trovare ciao alex what ah mi vengono rompere le palle io vengono rompere le palle aspettare un attimo guarda me lo voglio rifare con voi guarda ciao 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 eh ve lo faccio con voi semplicemente me lo faccio con voi come diccio che hai matato lo fai per noi non mi spingere ma cos'è e mannaggia cicino porta il furgoncino mi mangio il panino mi chiamano pure mi chiama mamma che cosa vuoi ha sentito la rai oh shadow non mi spingere che ce l'ho quasi o oh o raga adesso citto ciao no stro Raga sapete che si può cittare E però il fucking c'è qua No cioè non ci sta Francesco Sta giocando Sì raga ci sono No 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 Cioè mi ha venuto chiamare mia madre Perché avevo dimenticato Devo creando di mio nonno E quindi ora lo devo chiamare No penso che sia anche molto amate Perché mi ero mutato io Volete vedere come citto Ma non ci può fare Davvero? Io mi chiamo il modern mod Adesso lo posso Ce l'avevo fatta Ho proprio cittato Succa ho cittato Ma davvero ma com'hai fatto? Scusami un po' Eeeh Eeeh Oh ma questo è cittato in quattro ore E' strazzo Io vorrei non perdere i coglioni Però siccome non posso Non ti ho fatto Sono finciato Mi sveglio Ragazzi io Io potrei concludere Io potrei concludere E non ho tutto No vado ma devo Devo rifarmi tutto quanto tutto pezzo Devo rifarmi il pezzo Rega per finire la gara Nooo Io arriverò primo Ora che ho scoperto come si città Alex allora faccio una cosa Ti sponso di su a bestia Ti sponso di su a bestia Alex Se sei se la fai Ti sponso di zionale Ti sponso di zionale Ti sponso di zionale Ti sponso di zionale Ti sponso di zionalissimo Ma ma no spiegato rifarlo ma quindi no non puoi citare non si recita non devi recitare allora io come ho fatto spiego no per rifinita non devi recitare alex arrivo io prima capito non ce la fai anche se capisci ormai alle non ce la fai guarda me è andato di culo l'ho non ho visto scatosserico mi stradisci ma non ce la fai questa volta orate quasi quasi glaspetto arriverò non mi stanno le barriere forta building roba allora non stassi bene vero non ho accettato ragazzi ditemi quando che devo finire la gara che la termina ma è una lavorando guarda guarda mi fai vedere a me vediamolo come si citta ma cosa faccio vedere come io non cito più io non cito più no io non cito più non cito ma non c'è il traguardo qua e allora ti faccio vedere come si citta bene guarda stai vedendo la live è tutto calcolato il bastardo certo la НО NO 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 NON MI FOPERI VELOCE! SPAUNA IN FRATTA Non mi recupererai mai dove si va ma da qua da dove cazzo si asce no dalle pere dalle pere non mi troverai mai io non ci terrò non ci terrò più che cazzo si va ciò non lo devo rifare ciò dove sto no non lo so allora devo andare sul garage tu cazzo non riesco a capire dove si fa non posso accendere la live devo farlo come cazzo si può risparmi ciao dove si fa dai fai il bravo dai aiutalo francese non finiamo alex ecco devi salire bravo bravo devi salire nel garage devi salire tutto quanto devi tutto quanto salire dove vai non devi scagliare lì no ah bene hai detto che provo a cittare io non credo manco come funziona il giro vieni vieni ecco benedetto seguimi ok dov'è dov'è il traguardo devi fare un salto a un certo punto no 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 devi fare un salto guarda dietro di te non è non lì non è lì è destra benedetto guardami guardami bellissimo io ce l'ho fatta comunque ti lascio fare il città oppure ma non mi dovi carica nel check fatti finisci la gara io voglio provare a farlo onestamente senti io vado vada 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 posso riuscire no con cazzo proprio ma con il cazzo senamente anche romano ciao romano il peggio come il peggiore di tutto no nel peggiore di un minuto va bene ciao se ti iscrivi al mio canale lo cancello anzi di blocco che non voglio perdere gli iscritti ma non mi piace che gli ultimi le ultime live hanno fatto un botto di hanno fatto un botto un sacco di like ho visto una video un segreto e questo era solo la prima gara oltre il titolo e smatte tanto la live con il fatto 88 non so più con il matto 88 bellissima il suo fatto la seconda ma no è picco fello in giro dove abbiamo fatto la terza secondo con solo a raga le live hanno fatto rispettivamente guardi rocket league 15 visual minchia che merda quella di loadout 21 e quella di città con te bimbi ha fatto 26 perché grazie a me perché grazie a sto cazzo perché mai rotto il cuore a raga la fine del bico a raga le metto la carolina con la lombra e caramelo e caramelo no 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 stavano se ci siano se ci sono problemi ma questa è facilissima è la più facile tutte quante questa basta che se parti prima ripetendo che forza a meno che almeno che ho preso non rotoli come ieri è tu sai di cante in cena tu sai bello tu sai forse non arrivo in cima non mi metto veramente a non solo saletti tappeti il mio sport preferito è appena bellissimo tappeti no no c'è rotolato c'è rotolato infatti da voi nevica se ce l'ho fatta e se si andate a scuola domani noi tipo 2 metri di neve e non ci andiamo non ci siamo andati né ieri né oggi ora dobbiamo vedere non ce n'è più a terra che quegli stronti hanno bussato il pane però pensato oggi aveva detto che non si andava e non si andava poi è il suo cammino dove si siano produttori solo voglia erano siti paga perché lui contro le siti fake questo gioco è più bucato ragazzo questo gioco è più bucato di minecraft è più lì ha scritto minecraft ma in ecco spiega che vuol dire che bello siamo tue spettatori siamo managgiano ovviamente ma tutto è schifo un incontro da cugini tanto perché ha scritto che sarà che daniele ha scritto ciao ciao sarà il cugino no loro due sono qui sono cugino borgia non mi rotolare scorrotolo la parte di una freddura alex mi aspetti Lo sapete come va una fabbrica di parteggine Ragazzi e qualsiasi fa altre divisioni in mare ragazzi una televisione in mare cosa fa ma il fondo in onda dopo 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 ecco non sa qui dietro è caduto un auricolare arriverò bella guarda che sono io Oddio vado facendo venga voi non potete immaginare bella oh si spama un sacco se mi fai convincere bella no che ne fate i 30 ieri vado ti spama un sacco 30 ii tritti e un vecazzo se arrivo ultimo te li faccio fare te li faccio fare te li compro eh no che ti pago io te li pago io beee su cazzo vedi tu te li pago io vedi te li pago io cazzo intanto ok vai vuoi andare avanti grazie ed ecco ragazzi come si contrasta su GTA come si contrasta su GTA ma è anche il miglior video di parte del mondo? io no chi cazzo vuoi è il miglior video di parte del mondo? eh beh ovviamente destro no e vuole veramente più di quale mi ha finito erato mi ha finito erato siamo a un'ora siamo a un'ora di no prima ho detto del live poi ho detto Mimini poi ho detto Kilipe ragazzi siamo a un'ora di live ma me la ricordo per me ma io sono primo e chi non sa stenzione a noi cos'è? e chi non sa stenzione a noi cos'è? oh è da del nino è da del nino è da del nino è da del nino levala che siete da del nino uscite dalla live levala Alex ti banno dal canale Alex la mia voce vale come una canzone non basta che non faccio poi anche cantare ho modificato la descrizione dei video invece di iscrivetevi e non ve ne pentireta iscrivetevi e ve ne pentireta no, e non pisciete più di e non piscirete e non piscirete iscrivetevi e non ve ne piscirete non ve ne piscirete non piscirete non piscirete tra l'altro il mod è che mod cioè tra un po' è stato i miei video di cosa cioè vabbè no ma lui è stato uno dei uno dei miei video di Happy Wheels in quello dove che poi abbiamo eliminato ma cosa? no quella parte dove vincevi tipo alleluia era il tipo era tutta la sedia però i dettagli sono ti ricordi ripete? c'erano due giri però mi ricordavo questa gara era un po' complicata mi ho messo una ah ah ragazzi se io non riesco a fare che cos'è tutto quella roba ma va bene vabbè hai messo la scia ah 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 ma perché ti metti la entity non modificata mi seghi questo motivo di questa min*****a che fa' montato intanto con la entity non modificata sono arrivato prima ma siè ma è modificata appunto mangiami la polvere mangia la mia merda ma lisciami le mela lisciami le mela e volevi guardala che faccia non si rassaltala ma fatti cazzo tua e volevi oh mio Dio no 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 non mi vedremo oddio oddio cos'è 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 voglio vederti ma guarda come ti fanno si voti ma con la prova è facile perché la foto è più attagliata più che altro con quella di ben non è difficile questo è un legale che ho la mia è difficile più che altro è strano che non ci riusciamo perché quando faccio le gare con ala che le perde sempre non ci riesci mai a farlo lui si ma l'uomo di quanto la mia complicata quando gioco la mia è abbastanza io ride i vorrai sono difficilissimi che triccia alex perde sempre le perde sempre le miracolo si sta vincendo adesso si va è perché non sono qualcuno non è il ma il 80 il 80 non va bene per il ma non va del piattissimo è infatti non deve essere piatta più piatta che già e ce la fa prima arrivo primo se ua dai un bacino dove se kiss my ass qualcosa mi dice che arrivo primo vai l'ho fatto oh vi aspetto no 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 cazzo stavo fremando ma sei coglione stavo frenando sarà cioè tu almeno aspettami che così almeno non non arrivo arrivo ma ma sta dietro di me allora cazzo guarda ancora cazzo di compensa di ma ma baci linea domoro ma non ce la faccio regali non ci riesco regale commenta dominate come si chiama di gognone francesco vabbè l'alessi l'alessi si chiama io nelle live non l'ho mai detto l'alessi lo so lo dico anche io sicuramente non starace ah sicuramente non fusco infatti io non ho pensato non mi chiamo adesso non sai che io sono nero e io mi chiamo come il giornale sai che lui è nero sai che lui è nero non è vero come no non dire così che poi sono razzisti ma veramente non sai che lui è nero che non so nero ti pari no lui è nero no è una monafora per dire che il mio cazzo è l'unico che è quello di un nero una metafora oddio starace ancora alla vabbè vabbè e c'è starace zappa laviglia fruschi non è il tuo cognome no e tu non è o il banano o il banano è il mio veramente perché cazzo vedete quella roba blu dietro al mio pele in senso anche se ho un po' storto lo uso molto allora una prova che non esiste ha problemi marco pro 10 non me adesso in questa cosa si mettono amino mi like non mi piace perché siete tutta questa pianta che la mia modificata solo di estetica è un po' di armatura perché non c'è manco soldi per pagarmi la bolletta dell'alice certo ah c'è lo strike che era la play senza voler hai lo strike si perché lo strike lui ride non sa nemmeno cos'è lo strike questo è il bello lui ride manco sa cos'è lo strike è un'altra sono andata a far bullying per farti capire ah dmx ah io prendo una dc che non ho cioè lui dice lui dice ah come come ti pensi ma cosa cosa è uno strike ti rendi no 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 guarda come non ti è mandato a fare ah è che lo se lo strike è una bull eh cosa è uno strike non ti è mandato a fare bullying quando ti porto ti segnalano no no lo strike è una specie di segnalazione praticamente non puoi mettere copertina non puoi mettere copertina youtube no che puoi no alcune cose posso fare altre no non puoi copiarle vabbè 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 ah ha riabilitato ragazzi ma strozzo e posso cazzo tua strozzo vabbè alleiamoci ma cosa bastardi no 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 ci provate proprio alleanze 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 come la mia panza mi serve una alleanze 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 come panza strozzo leanze alleanze impossibile aiuto ma la macchina qui c'è una macchina ma c'è un pezzo dove non ti aiutare la macchina è impossibile con la macchina in colpette ci serve la tua macchina e che ha risultato e io cito città da un certo punto io ho citato un punto è un problema come no rega no no vabbè è impossibile questi sono proprio le gare sapete la serie gare bastarde di b star è peggio dammi l'auto palma palma signora mi serve la tua ma non si riesco a citare ed ancora più veloce no e ora ti prema brutto il lasso dobbiamo citare ragazzi proviamo a citare attenzione ecco il cazzo cazzo ma come faccio la macchina lo piatto lo piatto no ragazzi ah sapete c'è un autobus dovete salirci dentro dovete salirci fuori dovete entrarci fuori e poi dovete camminare sulle macchine ma il fatto è che sono lontanissime le macchine tra loro infatti lo faccio a piedi ho capito ah ti prendo ti prenderò oh lo faccio a piedi no 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 una palma quanti spettatori uno è il più scarto di tutti quanti operati quanti spettatori operato cazzo è rainbow è infatti quanti spettatori abbiamo per ora uno passager alleanza alle azione alle azione alle azione ok 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 ammazziamo a cosetto appena arriva ammazziamo a due ammazziamo a due ammazziamo a due le mie di prossimità la roba di prossimità guarda che tengo si come a scappare da quel posto non volevo ti giuro ti giuro no teori se ne vanno le mile no 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 teoricamente no allora se ce la si può provare a si può fare fuori siamo in un cazzo o prendi la minigun vai vai tutti cittadino si è andato fuori si è andato fuori tienimelo su su qualcuno dice che va a morire guarda che stai facendo mi trollo trozzo no muori ma dove sei tu manco tumore ma dove è alex qua non muori io sono il modern moda ma dai non muori no oh dai voglio finir la gara disintervati no ah ah facciamo così non la giochiamo finchè alex non finisce questo momento epico tregua 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 mi spara tregua e tu continui a sparare ci credo e vedi e tu non potessi giocare senza tegua tregua tregua benedetto fe premasciato mi vendico cazzo meno da alex bassa alex bassa dai ma non lo fa a piedi perché devi fare un certo di 40 miliardi di mezzo non ce la fai ma non ha fatto niente dai perché me ha ucciso mi ha dato un colpo mi ha fatto cadere mi ha fatto cadere prima adesso passa mi ingresiva ma io faccio quello che guardo hai un combattimento pulito allora niente niente fucili a punta a a allora allora sto muozzo ecco non sparare non spararmi dai 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 vedo me il potevo ragazzi come succede dai alex basta così imparata a killarmi muore ti salvò io preto muore 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 neanche con le bombe ma adesso tregua e se non lo smetti tregua mi volevi uccidere io prima ragazzi ma siamo dei toni veramente questo ragazzi siete delle capre abrasive basta abutire bene basta guarda guarda il caso stronzo e stronzo alex dai adesso treguamo tregua dai seriamente però aia prego aiuto quante bicicletti città sotto aiuto aiuto alex e mi dai una spinta nella gestione dopo ok dove sei qui dentro guarda 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 altrimenti è iniziale cosa ma io marcu lo ti hai mi m corriere che devo chiamare a questo ci ha dovuto devo far saltare le biciclette così passiamo è matico difficili vai saltate in aria ma finale via proprio proprio via via per sempre boom ma se prendiamo una macchina non ce la facciamo è molto la sensazione molto critica ragazzi questo se va bene così siamo al minuto e venti di live questa casa da venti minuti se lo stagano spara o ci sono io ci sono io ci sono io ci sono lui si è ma impossibile c'è col più vasto 2.000 di utenze di giornalire la pasta bbc aiuto non è parlato buongiorno vuoi marire shadow inquadra questo aspetta shadow ti faccio città non mi blocco qua aspetta mi bloccavo perché adesso aia hai visto ciao ciao nicola alex metti di quella macchina perché quella macchina poi quando e sai prima con un cuore sto stronzo amore ammazzato certo io allontanati allontanati del territorio non è morto ma aiuto mi prego sì che ciao ciao attivato le morti alex metto quella macchina sulla prima macchina ma c'è la mia macchina in piedi prima di la rimanila ma c'è la macchina in piedi in piedi in piedi in piedi provo ad andare in bici e si scopo fermati ci prova aspetta no 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 aiuto arriva di là mi guarda parco vuole facciamo un parco cucinei per dopo che ferma di fermati fermati forse mi ferma forse mi ferma la tua bici si è affermato non è vero qui ci guarda che sono così che sono molto morto è mortale il mondo o se ti apriò la mia b ma scusa se prendi una mia dica e vabbè ma alle vati la bg con un testo c'è di levati aglio alex vado a falla saltare in aria le mati avete un idea dopo una cosa dentro quel caglioncino aspetta che fammi fare no no non devo ammazzarti devo ammazzarmi poi aspetta rompo la mia bici no mi piace niente non la rompere perché la ah 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 no d'è ma lo stronzo ooo che cazzo fai? rotto sto no ma cosa ma cosa? agli armi stacchigliamo lo stronzo oh stronzo aiuti papà vieni ma ancora qua state no volevo uccidere lui volevo uccidere lui volevo uccidere lui mi sono scenduto da solo ho preso un pacco dal corriere ho fatto una firma che forse neanche il fratello di francesco fa così ma hai messo la tua figura ho fatto la prima più bella del mondo mi uccidete all'elevati devo fare questo autobus io voglio suicidarmi scherzo non farò male perché tipo non si vede non si vede francesco ah ah mia pelle oh non mi ucciderò zonfranco 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 oh sei rossi inizio per ma era una live tranquilla un spruzzo dai aiuti abbassami a lei la firma c'è pure il corrente perchè lei si deve firmare su un foglio di carta o qualcosa del genere sul telefono dovevo scrivere con una penna che mi dava dovevo scrivere sul telefono ragazzi si può vivere ci metto io ci ho scorreggiato sopra la cosa ne avevo vivo basta oh cosa fai io non ho più ammazzata ma io non ho più ammazzata ma io non ho più ammazzata sono vivo sono vivo ma io non ho più ammazzata ma basta regà dai basta oh cerchiamo di far la gara regà vai oh cerchiamo adesso però si mostro una scossa ahhh 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 en ahhhh ahhh 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 pfff ahhh l'indica Ah! Che ha un gatto da stambiressa! Via! Ma che? Ah ah ah! L'alleanza è brutto stronzo! Ma chi? A me è l'alleanza! No! Allora! Ma dove sta? Ma dove sta? Muori! Che cazzo fai schifo! Alleanza! I segnalo i video per copyright! Quelli veramente in cui che copyright! Ma fa culo! Ok mi segnalo tutti! Anche quelli dove non c'entra! Non c'entra! Non c'entra! E' lui che ti sta ammazzando non io! Alleanza! Alleanza! Muori! Alleanza! Non c'entra! Non c'entra! Alleanza! Alleanza! Bene, segnalo i video di Alex! Che basta! Alleanza! Oh! Alleanza! Ho detto alleanza! Ho detto alleanza! Ho fatto il capicante! Rega! Non c'è potete! Sì! 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 No! 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 Ho detto alleanza! Ho detto alleanza! Ho detto alleanza! Dai che i fan si stanno annoiando! E invece c'è solamente uno! Ce n'è! Ma! Fuori! Eh! È Johnny mi sa! Johnny è schifo! Johnny è bravo! Oh! Johnny è bravo! Già! ti impari così ti impari bravo chi cazzo guardo becchi si è invendicato no ok su whatsapp quale gioco voglio vogliono vedere che gioco basta benedetto non killare ragazzi io volete dire vale oh ragazzi non mi spingi a giugare la bici hai killato benedetto sto sguizzo si è vero si la volevi uccidere no non avevo fatto o facciamo che va più lontano con la bici ah però che cazzo va ah strozzi non mi uccidetevi subito guardate cosa faccio guardate cosa faccio non mi uccidete voglio ma se mi arriva tipo una segnalazione dal convenio vabbè se non volete finire più la gara che faccio un sponchi bene dai alleanza ok giusto la panza ma guarda le scezze mazzo ah ah mi sto capendo no ah ah raga facciamo una cosa seria adesso dai cosa facciamo raga O che vuole fare il bordello in sessione? Regà? Leggione No, bordello in sessione Ma basta! Ma l'hai visto? No, no, no Allora, sì, infatti, mi voglio bene Ma molto bene Perché se... Primo che mi uccidere un po' il cazzo Io voglio fare... Oh! Mi senti il cazzo! Ah, ragazzi, ho l'idea Facciamoci delle bici kamikaze Quelle con le bombe le tue sopra E io me le do ognuna Me la doni Sì La bomba adesiva Sì 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 Te le metto io Allora, te le metto io Aspetta Tiè, mi ha Beh Ma Aspetta Fermo 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 ma basta anche io sono scusate il franzo le balle lega uno spigolo delle balle ma che fai no scusi no regale! Alex, guarda Alex, guarda qui, Alex guarda qui, Alex dai motivi ma aspetta, Alla guarda, Alla guarda 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 ranta 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 guardatemi guardatemi aspetta 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 guardatemi guardatemi ci sai scia devo cadere aspetta che lato guarda guardatemi guardata forza regà 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 presetto voi ti fai rifallo non devo cadere io sono io sono io cazzo alex Dio! Ma dico poi non devo cadere Non devo cadere Ok Ah stai non Un palo delle palle Stronza 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 Ragazzi Oh che cazzo vuoi? Cazzo vuoi Alla Ci penso io ti preoccupare Alla webman Ragazzi Ragazzi Guardate Alex Sei pronto? Alex Rega Ragazzi Quanto? Stronza Grazie per i morti Oh se li uccidi giuro che le palle Ma c'è sta qua Dio No È caduta all'armo La moto Stronza Ammazza Ti trovi Oh padono Non c'è un calone Ah Sotto Ah Come ne vado Viglia io Giù Ma dai voglio cadere giù Basta Ah grazie Vai vai Stronza Qualcuno ragazzi Che da live mi è piaciuta come sempre Lasciate un like Scrivetemi Vabbè 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 Ragazzi 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 Concludo la live qua Ragazzi Ragazzi Damone facciamo un'altra su Un acquacatto gioco Bella Allora Aspetta allora Allora Ciao Già Ok 마